terra amara anticipazioni quello che sto per mostrarti ti lascerà completamente senza parole fecheli uno dei personaggi più importanti della sop è stato da tutti creduto morto ma ciò che sembrava un tragico finale si rivela essere qualcosa di stupefacente punto il finale della storia che sto per raccontarti ha scioccato tutti i fan del mondo e sono sicura che anche tu rimarrai completamente a bocca aperta facciamo un piccolo passo indietro nel cuore della notte mentre la luna piena riversa la sua luce argente a sui campi di cucurova una storia di inganni e tradimenti raggiunge il suo culmine è il giorno fatidico in cui fecheli consapevole del pericolo imminente si prepara a compiere un audace ritorno ma questo non è solo un ritorno alla vita è l'inizio di una resa dei conti epica dove segreti sepolti e verità celate emergono dalle ombre il velo di lutto che avvolge cucurova si spezza dando spazio a nuove alleanze antichi rancori e giochi di potere intricati mentre il mondo dorme fecheli con il supporto di pochi fidati intesse una tela di informazioni per smascherare i giochi di potere celati dietro la sua presunta morte la sua riapparizione è un sussurro tra pochi una speranza per alcuni e un timore per altri questa notte illuminata dalla luce della luna sarà testimone del suo atteso ritorno pronto a cambiare il corso della storia di cucurova per sempre quando fecheli fece il suo improvviso ritorno a cucurova sembrava quasi che il vento stesso avesse cambiato direzione portando con sé un tumulto di emozioni contrastanti nelle strade si poteva percepire un'atmosfera carica di sorpresa e incredulità mentre gli abitanti reagivano in modi diversi di fronte alla notizia tanto attesa ma altrettanto inaspettata alcuni esultavano abbracciandosi e piangendo lacrime di gioia come se un amico perduto da tempo fosse tornato a casa altri invece rimanevano sbigottiti con lo sguardo perso nell'infinito incapaci di accettare la realtà di fronte ai loro occhi il ritorno di fecheli era come un fulmine che squarcia il cielo sereno portando con sé una miscela di speranza e timore ma dietro le maschere di felicità e incredulità c'erano anche coloro che temevano ciò che il suo ritorno avrebbe potuto svelare segreti sepolti e piani intricati minacciavano di venire alla luce mettendo in pericolo gli equilibri delicati di potere che avevano a lungo dominato la città così mentre il suo nome echeggia tra le vie di cucurova la comunità era divisa tra la gioia e l'ansia pronta ad affrontare le incognite del futuro con rinnovato fervore e trepidazione la sua presenza non era alimentata da desideri vendicativi o risentimenti non era tornato per seminare discordia o per risolvere vecchi conti no fecheli nutriva un'intenzione ben più nobile e complessa cercava giustizia non solo per sé stesso ma per l'intera comunità di cucurova il suo intento era ripristinare l'ordine riportare un senso di equità e moralità che sentiva ormai perduto ogni sua azione ogni mossa ponderata era frutto di profonde riflessioni non agiva per impulso emotività ma con una calcolata determinazione mirando a portare alla luce la verità e smascherare coloro che operano nell'ombra contro il bene della città era come un abile giocatore di scacchi muovendo le pedine con maestria per rivelare i veri nemici di cucurova il ritorno di fecheli diventava così un catalizzatore di cambiamento un punto di svolta destinato a riscrivere il destino dell'intera comunità immagina una nuova alba che si staglia all'orizzonte portatrice di promesse di rivelazioni sorprendenti e battaglie per la giustizia che coinvolgeranno ogni abitante di questa terra appassionata e tormentata nel tessuto vibrante di cucurova una storia che sembrava giunta al suo epilogo prende una svolta inaspettata il ritorno di fecheli un evento che va ben oltre il semplice ripercorrere dei passi del passato si trasforma in una lotta epica per la verità e la redenzione i campi dorati di cucurova diventano il palcoscenico di questa nuova e avvincente saga dove ogni pagina porta con sé il potenziale per rivoluzionare il destino della comunità ti sei mai chiesto quale destino attenda fecheli in questo nuovo capitolo della sua vita con lui di nuovo tra gli abitanti di cucurova le porte per nuove avventure si spalancano mentre segreti sepolti minacciano di venire alla luce chi accoglierà fecheli a braccia aperte e chi lo vedrà come una minaccia e tu come reagirai da spettatore di questi avvenimenti mozzafiato si è editi e lasciati trasportare dall'incanto di una storia destinata a plasmare il destino di cucurova e dei suoi abitanti se vorresti il continuo della storia scrivi sì nei commenti e mi raccomando fammi sapere cosa ne pensi perché la tua opinione è molto importante per me ti ricordo che se vorresti altri video in anteprima iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche grazie di cuore a presto ciao ti sei mai chiesto quale destino attenda fecheli in questo nuovo capitolo della sua vita con lui di nuovo tra gli abitanti di cucurova le porte per nuove avventure si spalancano mentre segreti sepolti minacciano di venire alla luce chi accoglierà fecheli a braccia aperte e chi lo vedrà come una minaccia e tu come reagirai da spettatore di questi avvenimenti mozzafiato si è editi e lasciati trasportare dall'incanto di una storia destinata a plasmare il destino di cucurova e dei suoi abitanti se vorresti il continuo della storia scrivissi nei commenti e mi raccomando fammi sapere cosa ne pensi perché la tua opinione è molto importante per me ti ricordo che se vorresti altri video in anteprima iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche grazie di cuore a presto ciao